le tecnologie che l'homo sapiens sapiens ha inventato lo hanno portato a devolversi in una nuova specie l'homo facebook piano o di duckerberg vediamo il comportamento di questa nuova specie è un'altra cosa che facciamo è un'altra cosa che facciamo Un'altra, 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 un'altra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.